Ciao a tutti ragazzi, qui per la Normal Comics e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi ragazzi apriremo due pacchetti di calciature dell'NXL 2017-2018. Abbiamo comprato due pacchetti premium da 5 euro che coneggono 10 carte e sono in tiratura limitata. Prima di iniziare il video vi ricordiamo di mettere like e seguirci su Instagram. Vi ricordo inoltre di visitare il sito Calcio a basso costo per acquistare le maglie delle vostre squadre preferite a prezzi veramente bassissimi. Ok ragazzi, direi allora di partire con i due pacchetti. Quindi parte Alessia con lo scartaggio. Ragazzi si trovano limited, quindi si trova tanta roba, poi sono pacchetti che contengono le rare e forti. Ho visto gente che ha trovato il top player, quindi 5 euro però si trovano tante belle carte. Sono dei pacchetti meravigliosi ragazzi, io ve li consiglio assolutamente, sono veramente fantastici, si trovano delle belle carte. Allora, sfogliamo velocemente le card base, ah che non sono plus poi, sono... Eh vabbè, cavolo, saranno del vecchio tipo. Rodriguez, Pedro, Ceccherini, Tomovic, per ora vedo tutte le doppie, Allan, Schick e qui iniziano... Ok, si parte, allora Portione potrebbe essere la limited di Buffoll. Potrebbe, potrebbe. Allora, cominciamo con Bertolacci idolo. Eh, non male. Questa è la limited... E mi sembra lui, mi sembra lui, ragazzi, sì. Mettiamola, ragazzi mi è sembrato lui, così riusciremo ad avere il team più forte. Bah, peccato, peccato. Ah, la limited dovrebbe... Ci sono due nere ragazzi. Ah, una stella. Una stella che abbiamo già, è il triplo. Triplo, mamma mia. Però ragazzi, ci trovano tante rare. La limited... La limited, la limited... Ragazzi, è lui. È lui. È Gigi. È Gigi. Gigi, ragazzi. Ragazzi, un applauso al portiere più forte del mondo. Fa niente per la nazionale. Rimarrai sempre ai nostri cuoli. Mamma mia, 100 di difesa. È il portiere più forte di Adreale. Quindi al momento... Non metteremo nella squadra. Dovremo mettere la squadra più forte. Magari ve la mostreremo in un video, o sul gioco online, o anche con le carte reali. Ragazzi, Buffon Limited Edition, 100 di difesa. È davvero bestiale. È imbattibile. Il nostro portiere più forte era Donnarumma Premium Moro con 99. E ora, ragazzi, abbiamo Buffon con 100. Veramente... Mamma mia, ragazzi. Sbustata, assurda. Abbiamo ancora un altro pacchetto. Quindi... Non lo so. Vai, va, ve lo dirlo, vai. Lo apro io e Simone sfoglia le carte. Ora delle limited della sezione delle premium abbiamo Buffon. E nel pacchetto premium ora abbiamo trovato Pride. Quindi ci sono altre cinque limited di questo, diciamo, set da trovare. Ok, l'apro. Di cattiveria. Non sono io quello che non riesce ad aprirli ora. Sono più molle. Ok. Perfetto. E Simone andrà a trovare le carte forti. Ok, ragazzi. Scuoti un po' il contenuto del pacchetto. Vediamo, scuotiamo questo. Vediamo. Ok. Questo qua è Zucculini. Perinna. Una bella carta, comunque. Qui c'è Lucioni, ragazzi. L'ho trovato. Vedete FIFA, ragazzi. È bellissimo. Lucioni è fantastico. Gastaldello questo qua dovrebbe essere. E poi abbiamo Plavovic. Ah, iniziamo. Aspetta. Chiellini. Madonna, basta Chiellini. Chiellini, basta. Idolo normale. 50 sfumature di Chiellini. Ok. Adesso. 5 coins, ragazzi. Dovrebbe essere quella cartellata. È la limited. Dovrebbe essere il trofeo. Ah, il trofeo? La giro, quindi. Provo a girarla. Vai. No. Premio premium. Premio premium. Che cos'è? Allora, leggiamo un po'. Invia le tre cards premio premium A, B, C. Concorso premio premium. Puoi vincere la maglia della tua squadra preferita. Wow, ragazzi. Abbiamo trovato la C. Ok, quindi dovremmo trovarne... Anche la A e la B, ragazzi. Meraviglioso. Meraviglioso. E ci sono Ashami e Filipe Anderson. Bella. Qua una bella carta. Il problema è che se la mandiamo poi non abbiamo più la carta. Giusto. Ok, ragazzi. Adesso questa qua dovrebbe essere la limited, quindi giro. Sì, dovrebbe essere la limited. Ok. Partiamo con... Fazio, non so se ce l'abbiamo. Doppio, doppio. Purtroppo è doppio. Oh! Firmata! Firmata! Limited edition firmata? La manita colpisce! Lo scuotimento funziona, ragazzi! La manita colpisce! Ragazzi, io non so quanto siano rare quelle là firmate, ma so che sono molto ricercate e hanno un ottimo valore economico. Ragazzi, la firmata. La messa di Romagnoli, ragazzi! Mamma mia, bellissima! Che carta è? La manita è tornata! È tornata all'improvviso alla manita. C'è ancora un'altra carta da vedere. Oh, mamma, ragazzi. Vediamo di che colore è la prossima carta. È nera. Mi sembra una stella. Bam! Candrella! Candrella, stella, ragazzi! Candrella che dovrebbe mancare! Che carta è meravigliosa, ragazzi! Mamma mia, che spacchettamento, ragazzi! Sono bellissime! Lasciate subito un like! Ma che spacchettamento è stato! Tanto tutto è limited mancante. Non abbiamo trovato un altro pride che sarebbe stato davvero brutto. Romagnoli filmato? Quante ce ne sono di carte? Non lo so, di firmate non so quante ce ne sono, ma sono molto, molto rare. Sono bellissime, ragazzi! Sul pacchetto non c'è scritto, diciamo, quelle... Lo cercheremo e vi faremo sapere. Ok, una carta limited edition che fa parte di un set di sette. Quindi ora ce ne mancano quattro delle limited, ragazzi. Ottimo, ma non sono tutte firmate. Abbiamo trovato anche il premio premium. Delle firmate mi sembra che ci sia solo Romagnoli e forse Buffon. Ragazzi, firmate il premio premium! La manita davvero è tornata! Mamma mia, ragazzi, bellissimo! Direi, ragazzi, che è stata un'apertura davvero molto bella. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così stato, lasciate un bel mi piace. Se vi siete ancora iscritti, iscrivetevi. Beh, da farlo a Romagnoli Comics è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Bella!